Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Scusate ma non si sentirà nulla Stiamo tornando da una partita per ricordo E c'è un nostro amico che praticamente è morto E' morto proprio straticamente Ciao Lui ride Ma non c'è te quella di scherzare Guardate scherzare Ragazzi quello del nostro uomo si è svegliato Sta sfruttando canzoni orrende Comunque Siamo in amostrada, stiamo tornando a casa Siamo in Genova, stiamo in Persiglia Ma troppo ridere Ragazzi un like per il nostro amico? Assolutamente Comunque Poi ci vedete un po' il paranormal che non si vederà proprio nulla ovviamente Perché non c'è nulla da vedere Come di la batteria Ragazzi Lui 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 Un po' il film horror E Non vi faremo vedere nulla per non farvi venire gli spaventi Però Vi faremo soltanto sentire l'audio Insomma Il telefono lo piacereò accanto alla tv E registrò da lì i suoni e si interessa da Con il surround anche del cinema ragazzi E Un like per il nostro amico Che prima si è svegliato e adesso si è svegliato E' nato dopo L'ultimo motivo Neanche uno Neanche uno Con la musica schifosa accesa Comunque ragazzi Noi vi saluto Ciao Soprattutto noi E Ci vediamo da domenica ragazzi Lo speciale Ciao Salve